Oggi è una giornata molto bella, siamo tutti molto emozionati perché il nostro Max è tornato in servizio, è un mese che batte i piedi per tornare perché è ansioso di tornare, aveva voglia di tornare tra noi e noi non vedevamo l'ora che tornasse. Rientra una persona che ha dato tanto a Crosse Bianca, vogliamo ripartire da qua per sconfiggere questa schifosissima malattia, tutti ci devono dare una mano ma noi ci siamo e ci sarà anche Max da oggi in poi. Oggi festeggiamo l'Oriento dopo un periodo molto difficile, causa proprio il coronavirus di un nostro operatore, di Gopimax, che oggi ritorna a fare il suo servizio in Convenzione 118, quindi per Ampas e per Crosse Bianca una giornata di festa. Sono troppo felice di essere ritornato in mezzo ai miei amici, sono emozionato, quello che dico andiamo avanti, è stata dura, però grazie a loro e a tutti quelli che mi sono stati vicini è stata un po' meno dura. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.